Bretella dell'albera, l'antidoto al traffico pesante, è nullo senza l'ordinanza No-Tir, un'opera attesa da 35 anni, inaugurata il 19 giugno e che promette di liberare dallo smog i quartieri di Villaggio del Sole e Maddalene. Bisogna però obbligare i camion a percorrere la variante all'SP46, abbandonando i percorsi urbani. Ebbene, come avevamo anticipato, da luglio entrerà in vigore l'ordinanza che è già pronta, oggi è stata firmata e presentata dal sindaco di Vicenza. Finalmente arriva la firma sull'ordinanza che impedirà ai TIR di attraversare Villaggio del Sole e Maddalene, quindi finalmente si arriva a liberare dal traffico strade che da tantissimi anni sono piene di mezzi pesanti e quindi per i cittadini una grande notizia. Nei prossimi giorni verrà posta la cartellonistica e da lì sarà vigente il divieto. Dunque, questa settimana sarà dedicata all'installazione dei cartelli di divieto di transito ai camion che a pieno carico superano le 7 tonnellate e mezzo. Poi da luglio entra in vigore l'ordinanza che sancisce lo storico stop al traffico pesante a Maddalene e Villaggio del Sole, nel perimetro compreso tra la variante all'SP46, strada Pasubio a partire dalla nuova rotatoria e Viale del Sole. Sono incluse nel divieto strada Vallarsa, strada Pian delle Maddalene, strada Ambrosini, strada Dilobia e strada Maglio Dilobia. Sanzione da 87 euro per chi viola l'ordinanza. A questo punto, perché la bretella dell'albera sia un progetto pienamente realizzato, mancano le ultime opere di mitigazione ambientale e paesaggistica, i sottopassi, le piste ciclabili, ma da luglio si può dire, il futuro per Maddalene e Villaggio del Sole è iniziato.